Perfetto, ben ritrovata, siamo qui oggi con Manuela per capire meglio qual è stato il suo viaggio all'interno di Reset, è stato un viaggio intenso, credo molto trasformativo, ma insomma ce lo facciamo raccontare da lei, che ho rubato per giusto il tempo della registrazione perché stava lavorando, quindi l'ho ripiescata per i capelli e ho detto Manuela per favore, innanzitutto presentati e insomma benvenuta. Grazie, allora io appunto sono Manuela, ho 40 anni e sono uno sviluppatore software, sto portando avanti un mio progetto un po' a pizziche bocconi, però già il fatto di aver messo nero su bianco e sapere quello che devo fare per me è stato un successone e fondamentalmente ho iniziato perché non ero contenta di come stavo portando avanti la mia vita, quindi problemi legati proprio alla gestione della famiglia, al rapporto con la famiglia, con marito, figli, famiglia d'origine e il lavoro che mi risucchiava tipo buco nero e mi portava chissà dove ogni volta. Partivo con un'idea e finivo la giornata e avevo fatto tutto tra quell'idea, anche sul lavoro e non avevo un attimo per me, non riuscivo neanche a pensare di poterlo avere. Quindi piano piano, lavorando, allora adesso ho le mie cose, mi prendo il mio tempo, riesco, anche se ho dei momenti in cui sono full in mansion nel lavoro, però riesco a gestirla molto meglio, riesco anche a fare altro. Fondamentalmente ho voluto un tipo di contratto talmente tanto, cioè mi sono sentita come se per tutto il tempo dicessi avrei bisogno di un bel contratto da smart working, avrei bisogno di un bel contratto da smart working, magicamente è arrivato il contratto da smart working, però nel momento in cui ero decisa comunque a prendermi il tempo per me, quindi quella è stata proprio, penso che la base sia stata quella, prendermi il tempo per me e da lì poi si è scatenato tutto, si è scatenato tutta una serie di proprio reazioni a catena, per cui piano piano le cose sono andate nel migliore dei modi. Penso che sia staccattato qualche trigger nella mia testa, che li ha portati. Abbiamo lavorato su diverse cose. Senti, riesci ad appoggiare il telefonino che così sei libera di… Ballo, perché è in carica. Ah, ok, ok. Se faccio così, come mi vedi così? Anche nelle altre registrazioni abbiamo raccontato spesso che uno decide di prendersi del tempo per sé, inizia Reset e poi la vita accade, quindi durante Reset, oltre a tutto il caos interiore che ti sei trovato a gestire tra lavoro, casa, famiglia, eccetera, avete anche iniziato il lavoro di ristrutturazione di casa. Sì, si vede. E quindi al bisogno di fare ordine dentro si è aggiunto anche il bisogno fuori, esterno, no? Di mettere ordine, di cambiare alcune cose. Mi ricordo che quando hai iniziato il percorso eri molto stanca perché avevi dei ritmi completamente sfasati e avevi problemi col sonno. Sì. Però nonostante avessi giornate da 48 ore, per tante erano le cose che facevi, non riuscivi comunque a prenderti uno spazio e un tempo per te, no? Perché saltavi da, appunto, le richieste della famiglia tua, le richieste della famiglia di origine, le richieste del lavoro e quindi eri costantemente frammentata fra mille cose. Che cosa è cambiato durante Reset? Allora, innanzitutto, ho cominciato a impormi... Arrivano richieste, si accendono tante piccole lampadine, no? Tanti piccoli alert. Ci sarebbe da far questo, ci sarebbe da far quello. È urgentissimo. Presto è successo un casino. Corri, fai... Ok. Sì, corro fra dieci minuti. Sì, è urgentissimo, stiamo per morire tutti, sta cascando il meteorite sulla Terra. Fra un quarto d'ora casca. Arrivo. E, diciamo, è proprio cambiata e l'hanno visto anche intorno. L'hanno visto. E come hanno reagito nel momento in cui... Perché questa è una delle cose che spaventa spesso, no? Cioè, nel momento in cui decidiamo di attuare un cambiamento, temiamo e abbiamo paura che il nostro sistema familiare, lavorativo, eccetera, non tenga botta. E quindi partano gli autosabotaggi che, insomma, spesso sono frequenti. Ma come hanno reagito, insomma, le persone a te vicine a questo cambiamento? Ma, allora, in realtà non hanno reagito né bene né male, perché non hanno reagito. Però poi ho visto proprio che l'ecosistema si è riequilibrato da solo. Quindi, se hanno pensato qualcosa non me l'hanno detto. Però, piano piano, se tutto riesce stato un attimino intorno al cambiamento, ecco, forse così. Senti, quando sei arrivata, una delle cose che mi ha colpito molto è che tu lavori in azienda da tantissimi anni. Sì. E anche in un ruolo di prestigio. Però coltivavi un progetto tuo. Esatto. Cosa è successo durante Reset? Ah, intanto durante Reset mi sono... Ho proprio ripreso in mano il senso di quello che era quel progetto. Perché nasceva come un desiderio mio di fare corsi online. Perché poi ho io il pallino, perché anche in azienda se ne accorgono e quindi magari mi mettono da fiancare i staggisti perché gli insegno le cose. È proprio una cosa mia che ho sempre avuto e ho dovuto, diciamo, realizzare che come io l'avevo pensato quel percorso, quel progetto e via dicendo, andavo un attimino risistemato perché mi toglieva un sacco di energie per direzionarsi alle persone sbagliate. Quindi mi ho fatto un po' di chiarezza anche su quali sono le persone a cui voglio parlare. Ho capito che andava completamente... Avrei risparmiato un sacco di energie e di tempo ad indirizzarmi alle persone giuste, a quelle che parlano la mia lingua, tra virgolette. E quindi da lì è partito tutto... Ecco, penso al lavoro sul logo. Ho completamente buttato giù il logo che avevo e me lo sono fatto fare un altro. Molto simile, però un altro, diverso. Perché parlavo da un preso mentone. E quindi vedere quel logo fatto in maniera completamente diversa mi ha dato una percezione proprio diversa mia. E sembrano piccole stupidaggini. Però ti rimpasta anche la voglia di fare, di farlo. La cosa che mi aveva stupito tanto di questo pezzettino, di questo mese di percorso per te, era il fatto che sembrava volessi scappare da tutto quello che era il mondo aziendale per metterti in una nicchia che di fatto ti accoglieva solo per un pezzettino. E invece poi con il lavoro di riflessione che abbiamo fatto sei riuscita a capire come includere e dar valore anche a quello che era la tua storia professionale. e quindi a far sì che anche il ruolo che avevi e che hai ancora oggi in azienda diventasse un punto che ti contraddistingue e che quindi ti rende una professionista ancora più allineata rispetto a quello che vuoi fare. Quindi invece che scappare da quel mondo abbiamo capito come era possibile integrarlo in una proposta che insomma è ancora in via di creazione. Ne stavamo parlando proprio prima di iniziare a registrare. e per cui insomma seguite i vari canali. So che tu sei molto presente su LinkedIn. LinkedIn, sì. Quindi insomma per chi lavora in azienda o ha a che fare con i team vi consiglio di seguire Emanuela. Ma qual è stato il momento più sfidante del percorso? Quello piuttosto che hai detto perché? Quello in cui mi hai odiato un pochino, dai. Ma io penso che ti ho amato e odiato un po' in tutti. Ok. Ma guarda forse quello su... Ricordo una parte della percezione di sé. E... Che da parte mia è sempre stata pessima. Quindi quello è stato... Infatti se ti ricordi quel modulo lo mandai avanti... Era uno... Cioè io ho avuto un paio di moduli che ho mandato avanti con molta calma. E... Credo che non ci siano stati molti cambiamenti in quel momento sul lavoro, sulle cose. E però non riuscivo a starli dietro. Ma penso che fosse tutto un blocco in realtà. Ragionandoci dopo. Perché poi quando ho deciso basta lo faccio è andato subito. Subito. Sì, anzi. Poi in un mese hai messo giù un sacco di cose, no? Anche rispetto al progetto. Anche con Valentina, insomma. Sei riuscita a concretizzare. Poi Valentina... Valentina Scuteri che è una grafica illustratrice. Si occupa di blog, eccetera. È una creativa che ha un intuito pazzesco. Quindi è riuscita a capire esattamente che cosa serviva Manuela. E in davvero brevissimo tempo sono riuscite poi a dare un'immagine che fosse rappresentativa di quello che volevi fare. Senti, è invece il momento più trasformativo? Quello più piacevole? Cioè il momento in cui hai iniziato... Mi ricordo durante una live, durante una call. A un certo punto mi hai guardato e mi hai detto... Ma hai visto come mi si sono allungate i capelli? Come se fossero cresciuti dal giorno e dalla notte, no? E invece lì era come se per la prima volta ti guardassi davvero e ti accorgessi che non sei solo tante cose da fare, no? Un corpo che corre, ma della serie... Oh, esisto, ci sono. Sì, sì, ma ero fermata. M'ero fermata e avevo guardato. Non succedeva spesso. Non succedeva spesso. È come quando stamattina, prima di questa volta, ho detto già tre mesi, boh. Perché probabilmente in questi tre mesi non sono riuscita a fermarmi, a guardarmi. E quindi volano. E quindi più che volano... Cioè io uso il termine scappare, scappano. Perché non è che tornano in qualche modo. Quindi o li acchiappio al volo oppure scappano quelli. Senti, ma in questi tre mesi post-reset, quel cambiamento che hai iniziato a vivere, a darti il permesso di vivere, no? Perché quando si lavora in ottica pedagogica diventiamo consapevoli del fatto che siamo in continua trasformazione. Cioè non è che facciamo un pezzo di strada e ci fermiamo lì, ma continuiamo a crescere, no? Quindi stiamo costantemente in ascolto. Permane quel cambiamento che hai iniziato a dar forma oppure sei tornata prima di resa? No, assolutamente sì. Perché allora, sul lavoro complice il fatto dello smart working, ho degli orari per dire dalle otto di mattina alle otto di sera in cui poi io devo accorpare il lavoro. Quindi in quello spazio prendo le ore che mi servono senza dovermi uccidere. e per farlo. E questa è una cosa. Nell'ambito della famiglia, quello che mi ascolto, quello che desidero, lo faccio molto più serenamente. A me sembra cambiato anche il rapporto con mia figlia. Nel senso, prima avevo molta meno pazienza e urlavo di più. Adesso urlavo, perché quello non me lo toglierò mai. Però ho molta più pazienza e gliele spiego molto di più le cose, piuttosto che arrabbiarmi subito. Poi di là c'ho capatosta che tanto non le senta, così gliele spieghi. Però poi magari te ne accorgi dopo un paio di mesi che ti ha sentito, perché te la ripete. Quindi non lo so, vedo che i cambiamenti ci sono stati. Oggi ti trovo con lo smalto, mi hai detto che ti sei iscritta in palestra. Mi racconti appunto del rapporto con tua figlia e mi ricordo che c'era la difficoltà di dirle dei no a volte. E quindi di prenderti i tuoi spazi. Se tornassi indietro o se incontrassi qualcuno che ha dubbi su questo percorso e non sa decidere, a chi consiglieresti questo tipo di percorso? Anche per come è strutturato e formulato? A chi... Ovviamente rispetto a quella che è la tua storia, no? Cioè, in quale momento della tua vita è arrivato Reset? Quando... Allora, io su Reset ho ragionato molto di pancia, molto di stinto. Però adesso, dopo, dico, era il momento in cui ero arrivata al limite e avevo proprio bisogno di fare qualcosa che mi servisse, che servisse a me. Non era nazionale. Non era una cosa che dici, sai, mi sveglio stamattina, mi accorgo di avere questi problemi, li analizzo e trovo la cura per risolverli. No, era un... So di avere qualche problema, non so quale sia. Però ho dei problemi, li accuso, li sento. Ok, vado, mi butto. Sì, ho visto che questa è stata un po' la cosa in comune, no? Di chi si è scritto quest'anno. Cioè, il fatto di avere, diciamo, un disagio generale che non riuscivano a mettere a fuoco della serie. C'è qualcosa che non va, ma non capisco bene cosa. E in questo, il fatto di avere un percorso che tocca diverse aree, no? Quindi ragioniamo in termini olistici, va un po' a far pulizia nelle varie aree. Quindi, mettendo un pezzettino, no? Un passo dopo l'altro, diventa facile poi ottenere una trasformazione che spero, insomma, perduri. Manuela, io ti ringrazio infinitamente per la tua condivisione. Spero di vederti e aspetto il lancio del percorso, così... So che porterai grandi cose, grandi cose, grandi consapevolezze. Vuoi aggiungere qualcosa? C'è qualcosa che non ti ho chiesto, che avresti voluto dirmi, o raccontare della tua storia? No, nel senso... Cioè, un particolare, che non so quanto può essere importante, però comunque io ci ho pensato l'altro giorno. Allora, io non avevo mai, per esempio, valutato l'ipotesi di prendere i fiori di Bach. Ti ricordi? Cioè, l'avevo comprati, poi l'avevo messi là da una parte, non mi servivano, non erano quelli che facevano per me. Questa cosa dei fiori di Bach sembra una stupidaggine, però è un modo di approcciare il problema in maniera differente. Allora, ho scoperto, provando le varie cose, che ho bisogno, proprio fisico, di fare riflessologia per plantare. Ma una cosa del genere, che sembra una stupidaggine, io non l'avrei mai valutata, se non fossi passata prima, per un qualcosa di alternativo come Freddie Bach. E adesso andrò, probabilmente, a fare agopuntura. È una stupidaggine, veramente, sembra una stupidaggine, ma è un tipo di approccio differente che non avrei valutato in un altro momento. Anche perché la tua formazione è una formazione scientifica, possiamo dirlo. Tecnica, molto tecnica. Esatto. E quindi il fatto di metterti in confronto, no, con possibilità più sottili, chiamiamole così, e quindi con strumenti diversi da quelli che eri abituata a valutare, che, insomma, credo che abbiano portato e aperto, no, nuove possibilità. Ma quando vai? Ma va bene così, no? È per quello che dico, alla fine è un percorso che apre un sacco di porte, un sacco di possibilità, e il bello è continuare, no, dopo. Proprio perché le possibilità, soprattutto quando entriamo poi nel mondo listico, a proposito di tecniche, strumenti, eccetera, diventano tante. Anche in Reset non c'è riflessologia per l'antara, lo spiego perché altrimenti... No, no, era per parlare delle cose alternative, dell'idea alternativa di un po' di pensiero laterale in più, diciamo. No, no, esatto. Però il discorso è proprio questo, che nel momento in cui cambia il tuo approccio all'esistenza, alla vita, ti apri a tutta una serie di possibilità e anche di strumenti che potrebbero essere utili per te, e che prima invece guardavi della serie, ma che quella roba lì, ma davvero. E Reset, con Reset si vedono alcuni strumenti, quelli che sono, insomma, di mia competenza, però è bello poi sapere che vi date la possibilità, e ti sei data la possibilità di assaggiare anche altre realtà, soprattutto quando poi trovi un beneficio anche fisico, no? Sì, assolutamente. Bene, io ti ringrazio infinitamente, e insomma spero di risentirti presto. Grazie a te, veramente. Ci vediamo come al solito. Benedizioni. Benedizioni. Grazie. 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 Grazie a tutti.